Il Partito Democratico di Teramo a pochi giorni dall'inizio dell'anno e a pochi giorni dalla conferenza stampa del primo cittadino Maurizio Brucchi sul bilancio 2015 fa un controbilancio negativo. Sì, un anno sorribilis direi per questa amministrazione e purtroppo di quello pagato le conseguenze ci tenete a mani. Ci tenete a mani che in questo anno hanno pagato fortemente i grossi errori politici e amministrativi del centro-destra e dell'amministrazione Brucchi. Errori che hanno riguardato un po' tutti i settori e purtroppo hanno costretto a pagare soprattutto i cittadini terramani più deboli. Pensiamo alla vicenda sciagurata dei disabili, un errore clamoroso, amministrativo e politico. L'amministrazione ha fatto un parziale dietro fronte sotto l'impulso delle associazioni, dei cittadini e ovviamente delle opposizioni ma che dimostra veramente la scarsa attenzione per aspetti legati al sociale di questa amministrazione. Un anno negativo anche per quanto riguarda le opere pubbliche, tutte le opere annunciate di fatto incompiute. Il sindaco non ha detto nulla ad esempio sulla questione di Piazza Dante, sulla vicenda di Piazza Dante che è una situazione assolutamente grave. Ha annunciato su Via Longo la risoluzione dei problemi ma in realtà è un problema che ci portiamo avanti dal 2012 che non è stato assolutamente risolto e che ha portato soltanto a bloccare le graduatorie per l'emergenza abitativa cioè l'impossibilità per i cittadini in grossa difficoltà di iscriversi alle graduatorie per poter avere una casa popolare che è un diritto riconosciuto appunto dalla normativa e che viene costantemente violato. Non si parla più di nuovo teatro, non si parla più della risoluzione del problema del teatro romano insomma tutta una serie di questioni irrisolte che il sindaco Brucchi non ha assolutamente detto nulla in merito alla loro risoluzione perché evidentemente è preoccupato solo esclusivamente di andare avanti di prolungare questa agonia del centrodestra amministrativo e dei gruppi appunto di maggioranza che pensano solo esclusivamente a conservare la poltrona. Questo è il dato di fatto che unisce un 2015 assolutamente disastroso a un 2016 in cui non c'è alcuna prospettiva di cambiamento. E noi come Partito Democratico abbiamo il dovere di poter proporre un'alternativa.